Il governo Musumeci dichiara guerra ai rifiuti elettrici ed elettronici, monitor, tv, lavatrici, computer, sono tutti apparecchi che in Sicilia difficilmente riescono ad essere intercettati. L'isola è ultima in Italia per recupero di questi beni che talvolta finiscono anche in discariche abusive. Eppure, se ben riciclati, è possibile ricavarne anche il 90% di materie prime seconde, con un rilevante risparmio energetico rispetto all'estrazione di nuove materie prime. Per questo, l'assessore regionale all'energia e ai servizi di pubblica utilità, Alberto Piero Bon, ha predisposto un piano per allungarne la vita, favorendo la riparazione e il ricondizionamento e di conseguenza stimolando occupazione e ricavi. Ecco come funziona oggi il settore. Apparecchi elettrici ed elettronici sono denominati AE e comprendono, secondo la recente normativa, sia grandi elettrodomestici sia piccoli strumenti come le chiavette USB. Quando queste apparecchiature non funzionano più e non sono riparabili, diventano rifiuti e sono denominati RAE. A trattarli sul mercato, oltre alla figura dei distributori di AE e dei loro trasportatori, ad esempio i centri commerciali che vendono elettrodomestici non solo in negozio ma anche online avvalendosi di un trasportatore, ci sono gli installatori e i centri di assistenza tecnica. Queste ultime due categorie sono però confusamente normate, con zone grigie tra i AE e i RAE, con rischio di confusione tra le norme da applicare per apparecchi guasti e riparabili. L'assessorato ha chiesto un parere al Ministero dell'Ambiente che ha confermato la possibilità di mettere in moto un circuito virtuoso che agevola chi ritira gli apparecchi, li ripara o ricondiziona e infila li rimette sul mercato, evitando che diventino rifiuti. L'interpretazione che abbiamo ottenuto dal Ministero, spiega l'assessore Piero Bon, per la prima volta risponde a un quesito che fa chiarezza agli operatori tutti, anche in termini di potenzialità di iniziativa economica da parte dei distributori e altre figure coinvolte come cooperative, installatori e trasportatori. Adesso l'assessorato emanerà delle indicazioni che andranno a regolamentare meglio il settore, con grandi benefici per l'ambiente dell'isola. Secondo i dati recentemente diffusi dal Centro di Coordinamento RAE in Sicilia nel 2018, sono state recuperate 14.540 tonnellate di rifiuti contro le 13.396 del 2017, per una media pro capite di 2,89 kg per abitante. L'aumento registrato non è servito però a schiodare la Sicilia dall'ultimo posto tra le regioni italiane per materiali elettrici recuperati. La media nazionale è infatti di 4,89 kg per abitante, mentre in Spagna arriva a 5,31 kg per abitante, in Inghilterra a 7,98 kg, in Francia a 10,29 kg, in Germania a 9,76 kg. Nel dettaglio, in Sicilia, la provincia di Agrigento ha registrato nel 2018 una raccolta pro capite di 1,63 kg per abitante, Caltanissetta 1,43 kg, Catania 4,18 kg, Enna 2,29 kg, Messina 3,28 kg, Palermo 2,52 kg, Ragusa 2,34 kg, Siracusa 2,33 kg e infine Trapani 3,27 kg.